Si sono finti poliziotti per farsi aprire la porta, poi una volta smascherati hanno rapinato un'anziana portandole via circa 50.000 euro. È successo nei giorni scorsi in zona Giotto ad Arezzo. I malviventi, un uomo e una donna, travestiti da agenti, hanno suonato il campanello dell'abitazione. L'85enne si è così trovata di fronte alle finte forze dell'ordine che chiedevano la sua collaborazione per un'indagine su fantomatici furti avvenuti nella zona. Dopo un primo tentennamento, l'anziana ha così aperto la porta. Una volta dentro, i due si sono subito messi all'opera, rovistando mobili e scaffali e facendo incetta di preziosi e contanti che hanno trovato. Alla fine sono riusciti addirittura a farsi aprire la porta, ma a questo punto l'anziana si sarebbe accorta della truffa che i banditi avevano messo in atto ai suoi danni e così i finti poliziotti l'hanno spintonata e sono scappati con un bottino di circa 50.000 euro in gioielli ed altri preziosi, seminandone però parte sul pianerottolo. Adesso sulla vicenda sta indagando la squadra mobile della questura di Arezzo.